Sì, trema ancora tutto, non mi chiedete perché. Vorrei mettere la sigla di Super Quark, però non posso perché mi bandano tutto quanto. Però vedetemi così. Alberto Angela, please. Vieni a fare una storia di qualcosa con me. Io sto zitta, cioè io non dico una parola, ti lascio solo così, ti guardo. Allora, come breve storia intensa. La mia tesi è, io ho fatto comunicazione e marketing. E le tesi in comunicazione e marketing funzionano in un modo, ovvero che tu fai la ricerca e poi fai un progetto. E tu presenti il progetto ovviamente che dentro ha tutti i dati della ricerca, però non è che ci metti tutta la ricerca e presenti la ricerca. Quella te la fai per i fatti tuoi e questa è la parte che ho fatto per i fatti miei. Comunque ho le immagini sul computer e le immagini qui dentro, in qualche modo ce la facciamo. Scusate, vado avanti. Ho ancora detto una cip. Vabbè, Berlusca non c'entra. Il nostro cavaliere ancora non c'è. Il vero cavaliere di Mondadori è Arnoldo Mondadori, questo nome altisonante, che la fonda nel... Ho gli appunti, quindi me la vado a ciappare soprattutto per le date, nel 1907. Arnoldo Mondadori. Il 1900 è un periodo affascinante perché vengono fondate tipo le principali case editrici. Atenaudi, come abbiamo visto anche a Delfi. Però partono le primissime, perché prima del 1900 vi dovete immaginare l'editoria come Ollivander, che la gente entrava dal libraio e diceva, vorrei tanto questo libro classico del 400. E lui andava dietro le quinte, prendeva sto tomo di quelli in pelle bellissimi, glielo tirava e gli faceva, sono sette reni e mezzo. Uno diceva, che bello, tieni il mio sette reni e mezzo. Questo era, non è il lettore che sceglie il libro, è Henry, questo tipo di canica. Invece nel 1900 inizia a nascere l'editoria, o meno come l'intendiamo noi, no? E Mondadori è tra questi. Mondadori tra l'altro ha questa cosa fighissima che viene chiamato Incantabis. E ora dimmi, ora va bene che Arnoldo è un nome un po' così, però come, che cazzo di soprannome è? Incantabis. Arnoldo Mondadori, l'Incantabis, cos'è? La busso ad oro, cioè boh vabbè. Che comunque in dialetto mantovano, se c'è qualcuno di Mantova per favore confermi, vuol dire l'incantatore di serpenti. Perché era un uomo di marketing. Cioè questi, la Mondadori ha fatto marketing prima che il marketing fosse marketing di base. Questa copertina, arriveremo anche lì, arriveremo anche lì. Tra l'altro sono andata a studiarmi il progetto grafico del taglio della copertina. Perché non avevo capito, tipo perché. Comunque lo vediamo dopo perché è l'ultima cosa. Come tutte le, tipo, le prime case editrici, Mondadori si lancia così col cecchino sui libri scolastici. Perché sono le uniche cose che la gente effettivamente compra, vendere, vende, dizionari, materiali scolastici. Che poi andrà ad altre case editrici come la Treccani. Tra l'altro ricordiamoci che 1900, 1910, 1920 sono anche gli anni del futurismo di Munari. Cioè Munari, mentre le case editrici nascono, Munari fa il libro del Latta, il libro del Ferro. Che è quel libro fatto letteralmente di metallo, con i bulloni. Andatevelo a vedere. Poi iniziano a nascere tutte le marinetti che fanno tutte le riviste futuriste. Insomma, c'è un po' di movimento. C'è un po' di movimento. Non c'è solo l'editoria classica. Infatti, Munadori fa, vende, dizionari, quaderni e poi inizia la vera editoria dopo la prima guerra mondiale, all'incirca. Dopo la seconda guerra mondiale. L'uomo dietro Munadori in realtà non è per forza Munadori, ma è il magico Luigi Rusca. Che gestisce la maggior parte delle collane Munadori dal 20 al tipo dopo guerra, dopo seconda guerra mondiale. Cosa fa il magico Rusca? Ora, Rusca, quello che fa Mondadori di base rispetto a tutte le altre case elettrici è non schifare i suoi lettori. Cioè, Mondadori vuole vendere. Mondadori è un gabibbo, vuole vendere. Quindi, che cosa fa? Non schifa il suo pubblico, ma ne vuole prendere il più possibile. Che gli venda tempo perduto, che gli venda il giornaletto, gli va bene comunque. E quindi non si fa fermare da nulla. E Rusca è il primo a farlo. Perché praticamente io intanto provo a mettere le immaginette. Madonna, mi hanno cambiato la schermata ogni volta che me la cambiano è un peggio. Però, allora, mi faccio Mondadori e andiamo a prendere l'immaginina 1. Ho proprio una cartellina, quindi c'è se non è presentazio questa. Questo. Vi metto questo, come i Pokémon. Ora dovete scegliere il vostro starter. Mondadori 2. Non mi ricordavo che avrei dovuto mettere 3-7 immagini una di fila all'altra. Ma ora le mettiamo. Altro sono simili ai colori degli starter, veramente. Quindi ora vi scegliete un Pokémon. Io non sono assolutamente ossessionata dal nuovo Pokémon. Non ci ho perso tipo tutto il weekend, no? Assolutamente no. Ok, ci siamo. Questo è l'ultimo. Scegliete il vostro starter. Praticamente, che cosa succede? Rusca va a creare uno di quei casi particolari, di cui parla anche Falcinelli nel suo libro. No, non l'ultimo, perché è nascritto 35, quello sui colori. Le casistiche del colore. Beh, quando parliamo, pensiamo alla matita. Alla classica matita, quella con la gomma in fondo. Qual è il colore della matita? Cioè, di che colore ve la state immaginando la matita? I'll wait. I'll wait. E intanto sposterò i libri un po' più in giù. Esattamente. Bravi. Proprio lei. Gialla. Perché gialla? Cioè, non c'è nessun motivo. Però tutti ce l'immaginiamo gialla con la gomma rosa. Perché il povera anima che ha inventato questo tipo di matita e che l'ha venduta in America, mi sembra, ha scelto il giallo. Cioè, fine, ha scelto il giallo. Non c'era un altro, non c'era un altro. Non c'era un altro, non c'era un altro. Ha detto, bello! E l'ha fatto giallo. E però è diventato talmente un punto di forza che ormai tutti immaginiamo come archetipo della matita, quello giallo con la gommina rosa, no? Che è una cosa che nel marketing, non mi ricordo il termine corretto, tecnico, ma è quando il prodotto è talmente famoso che dà il nome proprio alla categoria. Non so, va bene, la matitina, no, i post-it, la biro, hottex. Di casi del genere ce ne sono un quantitativo spaventoso. Perché comunque ci sono il primo prodotto, tra virgolette, che è nato e anche quello che ha dato il nome alla categoria. Carta assorbente. Chi lo dice? Nessuno compra la scottex. Quando poi la scottex è quella dell'essere lunghe in offerte, non c'entra assolutamente niente con la scottex. Però di queste casistiche ce ne sono mille. Il cioccolato Milka non è effettivamente una di queste cose perché quando tu dici cioccolato non dici un Milka. Sì, il cioccolato Milka. Poi il cioccolato Milka, quello con tutte le bolline dentro, sia superiore a qualunque altro cioccolato, sono d'accordo con te, in caso. Comunque potete scegliere il vostro starter, quello che state guardando qui è un caso abbastanza simile. Che cosa fa Ruska? Ruska è rilanciare delle collane. Cosa pensa di fare allora? Invece di un po' a cazzucanis, ha dei colori ad ogni collana. Era una cosa che Mondadori, tra l'altro, è Mondadori che prende spunto da se stessa. Che Mondadori aveva già più o meno fatto, o stava dando l'inizio, e ha scelto i libri verdi per i drammi storici, i libri azzurri per gli autori italiani, che in questo caso è Le Notti Incredibili, e anche una collana di libri neri specifica per Simenon, che tra l'altro, ricordiamoci, Adelphi ha ed ha fatto esattamente nera. La collana di Simenon di Adelphi è nera adesso. Sempre il ritorno alle orizzini, ma soprattutto quello che è successo è che ha deciso di dare al colore... Stamperdino al giallo, il colore giallo. Brava Giulia! Ha deciso di dare ai romanzi polizieschi e thriller la copertina gialla. Una delle 4-5 combinazioni che aveva scelto semplicemente niente di più è che ha funzionato talmente bene che i gialli sono diventati gialli. E i gialli sono diventati gialli grazie a Mondadori. Sono stati loro a... questa non è la primissima copertina, quella che vedete sullo schermo sono le edizioni dei gialli, mi sembra, dagli anni 50. C'è il giallo, il fatto che i romanzi gialli si chiamano gialli, viene da Mondadori. E c'è anche un altro colore che Mondadori darà a una tipologia di romanzi, ma non ci siamo ancora. Quella arriva negli anni 80. Però quello che succede è incredibile. Cioè se ci pensate, noi stiamo dando al giallo, letteralmente dici il giallo e basta, non c'è fine. Il poliziesco è giallo e l'ha fatto un uomo, un uomo che si è svegliato e ha detto vabbè, ma perché no? L'uomo è il giallo, probabilmente ha funzionato così bene perché non era rosso. Perché il rosso è il colore che ci ricorda di più. Il fatto che abbia scelto il giallo e abbia vinto il giallo è perché si vede, cioè. In una libreria è quello che ti sparaflescia qua in fronte. E quindi è, cioè, lo so che adesso è talmente banalizzato il fatto che il giallo si chiami giallo che, vabbè, sti cazzi, uno dice. Addirittura è passato in televisione, cioè qualunque cosa a tratti di poliziesco si chiama un giallo. Ma è stata Mondadori a dare questa idea, cioè è stata questa mossa stupidissima di dare un colore alle collane che ha funzionato. Infatti questa roba del romanzo giallo se la sono portati fino ad adesso, tutti l'hanno presa in Audi la collana dei polizieschi è gialla. Tutti si sono piegati a questa richiesta di mercato. E quindi, comunque, è super affascinante. Questa è stata una delle prime cose che Mondadori ha fatto, sì un po' a caso, ma ha funzionato da Dio. Tra l'altro, ricordiamoci che nello stesso periodo, per chi non lo sapesse, tra l'altro Mondadori ancora adesso è stra... Cioè, qualunque, qualunque rivista è sua. Cioè, in questo periodo nascono Panorama, Grazia, fa tutto lui. Cioè, tutto lui ha deciso che avrebbe avanzato le sue zampette. Tra l'altro, vorrei fermarmi un secondo, ci ritorniamo, eh. Ci ritorniamo, perché adesso parte l'altro tema del colore, però quello che fa ridere è che se andate in Inghilterra e chiedete un giallo, vi danno tipo, non mi ricordo, uno storico, non mi ricordo, l'ho scritto qua da qualche parte. Però, quello che succede è che se andate in Inghilterra, ad esempio, il colore del giallo è il verde. Frase non ha senso, composta così, però il colore che hanno per i polizieschi, che ha funzionato a quel modo per loro, è il verde. Quindi tutti i polizieschi inglesi sono ricamente verdognoli, verdi, generalmente verdi. Questa è la mia fantastica tesi. Potevo farla un po' più piccola all'interlinea, eh. Ma cosa non si fa per riempire le pagine di cartelle che devi riempire, signori, signori, signori. Dove straccacchio, eh. Questi sono tutti i penguin, che vabbè, prendiamo ovviamente come massimo riferimento per la letteratura inglese. Anche loro hanno fatto una cosa simile, perché teniamo conto che Mondadori non è che, non è che Mondadori sono stati dei geni, o vaio, sì. Però sono stati dei geni, ma che sono sempre stati attenti al mercato estero. Quello che funzionava nel mercato estero, loro non avevano nessun tipo di problema a provare, anche qui. Hanno fatto delle supercazzole e hanno fatto delle cose che ne sono uscite benissimo. Questo di base è il marketing, cioè anche il tentativo. Un vero uomo di marketing, barra anche un po' d'azienda, no? Un vestitore, sa che deve spendere per guadagnare. Quindi bisogna tentare e vedere cosa attacca. Nessuno che studia marketing vi direbbe che è una buona cosa, ma la realtà dei fatti è che più soldi hai, più cose puoi trovare. E più cose funzionano. Ora adesso, la questione dei colori, sarei curiosissima di tornare a Londra solo per andare a vedere la sezione gialli inglese e fotografarla. Se qualcuno poi passa per la cittadina, ci faccio vedere se sono effettivamente verdi, perché comunque anche noi adesso gialli sono gialli, ma se andiamo nella sezione gialli non sono più tutti gialli, anche perché sono stati mescolati con i thriller, no? Però quello che succede è, Penguin lancia le collande del colore, queste qua tra l'altro sono le economiche che riprenderà anche la Newton. Arancione per la fiction, rosa per le avventure. Cioè sentite la follia che adesso la gente non si vuole mettere le mascherine rosa. Rosa per l'avventura. Tema maschile per eccellenza. Fa un sacco ridere. Quanto il colore sia, il colore non ha senso, è la società che glielo dà. Cioè il colore è solo un colore. Tutta la narrazione che ci costruiamo sopra, tutto un bias dato dalla società. Il fatto che, l'abbiamo parlato sulle storie di Instagram e vi ho salvato il discorso tra bimbo maschio, azzurro, bimba rosa, femmina. E il fatto che prima erano il contrario, perché il rosa era un colore che diventava rosso virile e l'azzurro era il colore della Madonna, quindi andava per le bambine. Cioè il colore non ha significato, è la società che glielo dà. Quindi fa molto ridere vedere che rosa per l'avventura è quando veramente, ultimamente abbiamo avuto tanti di quei casini per il rosa che città ne manca. Rosso per il teatro, blu per le biografie e verde per il crime. Se vai a chiedere un romanzo rosa ti verrà dato la sette vina veglia sotto i mari, se gli vai a chiedere un giallo ti verrà dato fiction, perché è la cosa più vicina all'arancione che c'è, non saprei. E questo ci porta alla prossima categoria, che si chiama, o meglio che nella mia mente si chiama, cancelliamo tutto, un rettangolo verde dunque. Allora aspettate che vi rac... ho visto che ci sono, si sono caricati dei messaggi. Secondo me non ha funzionato allo stesso modo, anche perché è meno gergale, cioè, non lo so, semplicemente la lingua è una cosa che si forma. E se per noi leggere un giallo viene naturale, probabilmente da loro, appunto, I read a green, non ha preso allo stesso modo. Era semplicemente una divisione di collana. Anche perché bisognerebbe andare a vedere che cosa c'era in quel momento in Inghilterra, quante case editrici, che cosa stavano facendo, tutto un gioco di comparazioni. Ma il giallo, inteso come genere, è stato influenzato dal colore della copertina, oppure come genere viene da altro? Sono due cose che non si... cioè, è meramente visivo, perché se ci pensi è veramente, meramente visivo. Cioè che il colore giallo è stato scelto randomicamente, o chi si sa, è semplicemente attecchito. Non è che poi la narrativa ha preso qualcosa dal giallo, semplicemente gli editori... È come quando... è come il caso di After, che secondo me è la cosa più semplice da capire, perché l'abbiamo vista tutti succedere. Quando parte una copertina che funziona, tutte le altre case editrici seguono, anche se non la stessa casa editrice e le altre. C'è questa copertina orrenda, con i due che limonano nello sfondo sfocati, e tutti i colori che sbrilluzzicano. Non solo l'ha presa la stessa casa editrice per tutti gli altri romanzi pubblicati da lì a sei mesi, ma anche altre case editrici hanno fatto qualcosa di simile. Quindi devi tener conto che se una cosa vende, gli altri seguono. Poi tra l'altro Mondadori a un certo punto ha chiamato la sua collana i gialli, il giallo Mondadori, ha preso 7000 nomi, ma di base è diventato il giallo un po' di tutti. Tipo ora non riesco a immaginare ancora diverso dal giallo per i polizieschi, forse il nero sì, perché poi c'è stata questa fusione tra poliziesco e thriller, dove il thriller a volte è un po' orrore, quindi è nero, perché la banalità del scegliere il nero come colore del malvagio, il bianco come colore del puro, tra l'altro una cosa affascinantissima sempre per viviamo come parliamo, nel corso che sto facendo adesso di UX Design, i dark pattern, che ora non vi sto a morbare, però sono delle cose per cui ti negative, per cui un sito web ti prende, non ti lascia più andare fuori dal sito web, sono stati cambiati con un altro nome, perché il termine dark, ovvero scuro per qualcosa di negativo, non vuole più essere inserito nel linguaggio. Trovo una figata incredibile. Come genere letterario, il giallo nasce Poe con i delitti della Rue Morgue del 1941, ma in termine sono il 1909, quindi ce ne passa di tempo. Quello che succede è che quando ci sono delle grandi idee di marketing, o quando qualcosa funziona veramente bene, non è detto che non sia stato fatto prima, quasi sicuramente, è stato fatto prima. Solo che non era il momento giusto. Il marketing non è solo trovare l'idea, ma trovarsi anche nel momento esatto in cui quell'idea funziona. Perché nel 1980, a metà dell'Ottocento, era un altro mondo. Cioè, sappiamo tutti quanto sia il secolo breve, e anche il salto tra l'Ottocento e il Novecento, quanto abbia cambiato la società. E il modo dell'editoria è cambiato in modo spaventoso, perché inizia a essere l'editoria come la conosciamo noi, l'editoria del pubblico, tra virgolette. Non a caso Mondadori vince in questo mercato, perché appunto è un uomo proprio del popolo. Cioè, uno che vuole pia tutto, asso pia tutto. E per quello non è solo chi l'ha fatto in assoluto per primo, o chi ha fatto qualcosa di simile prima, ma è chi vince. Cioè, chi vince nel momento giusto, al punto giusto. Cose del genere, nella storia sono state, sono successe 7 miliardi di volte. Non ha senso chiamare giallo un libro poliziesco, se non appunto quello della copertina. No, ma c'è, è incredibile perché non è solo nei libri, ma è diventato proprio cultura generale. Cioè, la serie tv gialla, sto guardando un giallo in tv, non c'è neanche più la copertina, ormai è proprio simbolismo al massimo, è incredibile. Andiamo avanti, perché quello che stavo dicendo era un rettangolo verde. Un rettangolo verde perché, a parte che, piccola info, visto che anche l'altra volta l'abbiamo parlato, perché io adoro i font, adoro l'interlinea, adoro tutti i mazzi, la Mondadori non usa il Garamond, ma usa il Palatino. Ha sempre dato il Palatino per tutti i suoi romanzi, che è choice, nel senso. E poi adesso, per parlare a sussurro e per tutti gli altri, quando hanno creato le nuove copertine col taglio, hanno anche creato un nuovo font. Un nuovo font a uso esclusivo di Mondadori, come l'uso esclusivo di Einaudi, che si chiama Arnoldo, giustamente. Si chiama Arnoldo come il fondatore. Il Garamond tedesco, però ha tipo gli occhi, che sono le parti tonde, vuote, delle lettere un po' più grandi. Insomma, dovrebbe essere più facilmente leggibile, teoricamente. Ma, ripeto, le nuove edizioni di Mondadori hanno l'Arnoldo, cioè font Arnoldo di Mondadori. Comunque, parliamo di un rettangolo verde, perché nel 33, quello che vedete così, si evolve, gli date una fantastica caramella rara, lo allenate con cuore, si evolve e diventa Medusa. Hemingway, comunque, cioè, è proprio rappresentante di tutte le modifiche di Mondadori. Comunque, questo è la Medusa, una delle collane italiane di editoria più famose in assoluto. Nasce nel 33, sempre sotto il nostro mitico, incredibile Rusca, se non mi ricordo male. Fa questo lavoro con copertina verde e una delle tre gorgoni. Scoperto, tra l'altro, essere tre grazie alla ricerca, perché se no per me esisteva solo Medusa. Tutto il resto è verde, rettangolo bianco. Questa struttura molto rigida, tipica degli anni 30, viene portata avanti per anni, in realtà, e ancora adesso, a volte la vediamo, un classicone. Questo qua, probabilmente, potreste averne qualcuno in casa, perché veramente... ...il rappresentante dell'editoria italiana. Era un lavorone incredibile, perché anche qua, gioco di associazioni. Il marketing, alla fine, non è nient'altro che ascoltare i bisogni delle persone e capire, prima di loro, tra virgolette, che cosa potrebbe risollevare quel problema. Prende ispirazione dalla Mondadori stessa, che aveva lanciato la Biblioteca Romantica, che era tutta verde, che parlava di classici dell'Ottocento, del secolo prima, di base. E allora lui ha detto, ma se la gente è abituata che il verde sono i classici dell'Ottocento, perché non facciamo una nuova collana verde, come a dire, questo è un classico? Perché comunque, quest'uomo aveva capito che i colori sono lavoro. Le copertine danno da magnà, perché un libro si giudica dalla copertina, perché dalla copertina abbiamo una fantomatica quantitativa di informazioni che il lettore riceve in tre secondi netti. Quindi la copertina è fondamentale. E ci piglia di nuovo, ci piglia di nuovo, perché la medusa di Mondadori è veramente, forse la conoscono anche all'estero, cioè è fortissima come collana. Ironicamente, questa è l'immagine che non sono riuscita a trovare online, perché chi cacchio è un buu, non so, è sparita dall'internet, forse il mio internet va a singhiozzo. L'ironia, sempre per paese che vai, mondo che trovi. Eccola qua, questa qua era la collana della piccola biblioteca romantica, ve la faccio vedere un secondo. La piccola biblioteca romantica è identica, solo che c'ha la medusa e la parte centrale bianca di base. che fa ridere, che se voi andate a... Questa è la copertina di Lolita, di entrambe dove diamine sono. Questa è la copertina di Lolita di Mondadori, è identica, non vedete una cippa, ma è assolutamente... Dove diamine sono? È assolutamente identica a quella che state vedendo qua. Questa è l'edizione russa, mi pare, ora ve lo controllo, sempre di Lolita. Anche qua è verde. È verde e fa un sacco ridere. È Olympia Press, che non ho segnato, ma penso sia americana. È praticamente identica la copertina, c'è esattamente la stessa copertina, se non fosse che una c'è la medusa e una no, però di base sono entrambi verdi. Quando parliamo che il colore e la copertina danno messaggi diversi, è che l'Olympia Press, che effettivamente dal nome un po' si può intuire, era una casa elettrice di racconti erotici. E Lolita non è un titolo a caso, era una casa elettrice di racconti spinti, Eros, Ramazzotti e roba varia. Quindi è molto soggettivo. Se tu avessi preso questo libro, praticamente era una sezione dietro a una tenda di perline in qualche libreria magica da qualche parte nel mondo, mentre da noi non solo Lolita è stata inserita nella collana dei classici, ma in più il verde per noi invece voleva dire classico, mentre in un'altra parte del mondo il verde era collegato all'erotico. Verde erotico è una delle collerazioni più improbabili che mi possa venire in mente, però ognuno suo, suppongo, perché i colori non sono emozione, ma funzione, è la funzione che gli diamo. Poi, ah vabbè, ora un po' di roba storica, perché succedono cose, si vede gente. Negli anni 40 c'è un altro massacro della carta, non ve ne ho accennato, ma tipo nei Prima Guerra Mondiale, come in tutte le guerre, c'è un problema di carta che non c'è. Non c'è nessuno, maestà, non c'è più carta. C'è un momento in cui non c'è di nuovo la carta, perché comunque durante le guerre c'è scarsità di tutto, figuriamo se di carta, dove tra l'altro, tutto quello, per non parlare della Seconda Guerra Mondiale, dove tutto quello che viene pubblicato è controllato dalla politica. Tutto deve essere dato alla manifestazione politica, manifesti, le pubblicazioni sono controllate, pubblicate esclusivamente, quelle che vengono accettate. Insomma, c'è la censura, ci sono un sacco di cose, i giornali sono molto più richiesti dei libri, perché comunque è guerra. Tutte cose facilmente intuibili, la carta per l'editoria scarseggia. C'è una paralisi totale, quindi diciamo che non succede una cippa di niente per dieci anni. 50, c'è il boom economico in Italia, se abbiamo studiato un pochino, nasce la Vespa, succedono un sacco di cose belle, cioè non è che nasce la Vespa, la Piaggio esiste, ma nasce la Vespa, la moto, perché la Piaggio e Vespa sono cose diverse. Nuova editoria italiana, non è vero, è sempre la stessa roba, però i 50 e i 60 sono un must dell'editoria. ricomincia tutto, tra l'altro io qua ho scritto ricomi importato dall'America, la rottura di coglioni in abbonamento, perché non a caso, se voi entrate in Mondadori, Cristo con tutto il rispetto, perché uno probabilmente quel lavoro lì non lo vuole fare, e io capisco tutto, ci sono i due maledetti che vi rompono i coglioni sull'abbonamento. Quanti libri hai letto nell'ultimo periodo? Quanti? Perché? Come va? Abacchire, non ti mollano mai. Sappiate che a me si sono bloccati i commenti, quindi vi leggerò mai. Ora poi provo a vedere se su online ha funzionato qualcosa. Provate a scrivere, provate a spammare qualcosa in chat, a vedere se mi si sblocca. C'è un emoji, una roba del live train, vediamo se funzia. Dovete capire che io ho tutto, cioè non si muove niente. Altre intuizioni dall'America. Mondadori vede il book club, che è questa altura di coglioni improponibile, dove tu ti abboni ogni mese, ti viene dato un libro in fronte e se te lo tieni lo paghi e forse se lo ridai indietro lo puoi cambiare. L'abbonamento della Mondadori fa schifo, mi hanno salassata, maledetti. Cioè mi sono otto, mi sono disdresservi. I vostri incubi, questa roba nasce negli anni 60. E ancora still going strong, purtroppo. Arriva sta roba, andiamo avanti nel flashback di guerra. Parte un'altra grande tematica che ci portiamo ancora adesso e che mette le basi per l'incubo di sussurro, ovvero il taglio, perché nascono i tascabili. Tascabili che poi diventeranno classici, Tascabili, Oscar, Mondadori, tutte robe. Però l'editoria in generale, non solo Mondadori, inizia a fare delle versioni più semplici, dei libri più economiche, perché la gente non spendeva per comprare soldi. Quindi bisogna fare la tascabile, che per citazione è una versione un po' più bruttina, dove l'interline è così, il bordo è così, il font è così, però usiamo meno carta, carta che ci vedi attraverso perfettamente, ma ti costa la metà in teoria di un titolo di copertina, perché tra l'altro, ricordiamoci che in Italia i libri costano una fucilata. La versione economica dei libri per il grande pubblico, però funziona fino a una certa, perché è una roba che si era già vista. La gente, tra l'altro, si crea l'effetto contrario, che è un po' quello che sta succedendo adesso, solo che adesso ci sono anche un casino di case editrici, lì stavano nascendo, cioè che c'è troppa offerta. Quando l'offerta supera la domanda, che brutta, è arrivata la tv, carogello, robe, insomma, tutta la solita manfrina, che non aveva senso allora, non ha senso oggi, e poi, a ritorna, Mondadori, a salvare il culo a tutti. Con un'altra roba, che noi siamo troppo giovani, però, qualcosa del genere, le mercatini, io le avevo viste anche prima di studiare questa roba, Mondadori ha un'intuizione. Se mai metto, non vado alla montagna. Cioè, veramente, comunque qua, Mondadori ha una delle intuizioni più marchettare, della storia dell'editoria, che è incredibile, ovvero, la gente non viene in libreria, io vado dalla gente. Che cosa fa? Ora, adesso per noi è talmente banale, tra mercatini, robe, eventi, cazzi e mazzi, banale, ok? Non stupirà nessuno. Però, Mondadori ha avuto un'intuizione incredibile, ha fatto una collaborazione, un'unione, con le edicole. Dov'è che la gente legge un casino di libri, in particolare? in stazione. Non a caso, le stazioni e, vabbè, aeroporti, roba che al momento non tanto usata, sono chili e chili di librerie, perché si sa benissimo che la gente sarà ora neanche più, ora si sta sorvolando anche quello, perché internet c'è in tutte le, in tutti i modi, però sa che farà delle ore, seduto, senza nessun altro tipo di intrattenimento, quindi il libro è proprio, è il suo habitat naturale perfetto. Mondadori vede questa opportunità, e va a chiedere alle edicole, soprattutto quelle che hanno vetro, sulla stazione, cioè tipo tabacchini, non so, ora chissà, erano gli anni 50, immaginatevi tutto con questo filtro giallognolo, e mette il, e chiede tra l'altro ad alcune edicole, di mettere i libri con la copertina girata. c'è per intenderci, dove, da così, invece che così. Ne abbiamo già parlato in realtà anche di, potrei stare anche a romper sulla scelta del dorso, scritto in questa direzione, o scritto in questa direzione, ok? Quindi, don't try me, perché potrei, che oltre questo, che c'è del genio, perché c'è del genio in questa intuizione che hanno avuto, che infatti adesso è talmente usata, che la usiamo continuamente tutti, mettere le cose, ma metterle in questo modo. Probabilmente queste le avete viste da qualche parte. Questa è la foto migliore che sono riuscita a trovare. Motivo per la direzione del titolo sulla costa? Non è che c'è, c'è un motivo e non c'è un motivo. Nel senso che sono giuste entrambe le cose, infatti le case editrici le utilizzano entrambi, ma c'è una lotta nel mondo dei grafici per decidere cosa sia veramente corretto a livello di lettura. Una va così, e una va così. A parte che il libro, la sua vita la vive in questo modo, cioè in questo stato, tu lo vedi così, su Instagram e a volte in libreria, ma tutta la vita di un libro è così. E questa costa ha la funzione di farsi trovare di base, non solo tu riconosci l'iperborea perché va beh all'immagine così, ma anche perché siamo arrivati, riprendiamo un attimo la nostra copertina Mondadori, perché questa copertina è così importante che tra l'altro trovo abbastanza ciofeca, ma per l'amor di Dio erano altri tempi, perché è così importante? Allora, perché Mondadori va a mettersi nell'edicole, nelle zone dove la gente legge, ma sa che la gente che passa di lì non legge, o meglio, mi viene fregando che è una cipa di leggere, sta prendendo il treno così. Che cosa fa? Non a caso vende anche giornali e riviste, va a posizionarsi come un prodotto vaghissimo, cioè proprio il remando, però si collega sempre un'altra cosa, che erano, ora oddio come si fa, c'erano dei giornali, forse poco dopo questi anni qua, che erano dei fotoromanzi, una roba improponibile, cioè una roba improponibile, se googlate fotoromanzi vi fate delle sane risate, erano praticamente dei fumettoni, ma erano dei fumetti di base, ma storie, disegnati un po' più all'americana, un po' più cose. Questo che cosa fa? Questo va a posizionarsi quasi come un fotoromanzo barra una cosa del cinema, perché non solo, ve lo ingrandisco, aveva questo fantastico bollino, che i bollini a volte avevano le edizioni vendute, che già è una cosa di marketing, che poi io odio, i bollini stampate sulle copertine, penso tutti, perché non si possono togliere, o da togliere sono terribili, in più queste immagini che vedete qua, questo bell'uomo, non è scelto a caso, sono immagini che vogliono riprendere fotogrammi di film, che andavano di moda in quel periodo, questo secondo me si vede bene, addirittura alcune copertine avevano proprio una sottospecie di vago ricalco di attrici e attori che erano famosi in quel periodo, come quasi a fare una rappresentazione, cioè un collegamento tra uno e l'altro, quasi come dire, questo qua è interessante come un film, cioè questo libro è interessante come un film, e soprattutto un volto, proprio per legge della psicologia umana, un volto tira molto di più di un'immagine senza umani. Siamo degli esseri egocentrici, e appena vediamo un volto siamo più interessati, quindi secondo me, io vi ho messo anche questa immagine, perché secondo me è molto chiara, cioè si vede proprio il taglio cinematografico, e questa scelta che è, cioè semplicemente, allora questa immagine, non so perché sia tagliata così purtroppo, però questa immagine, quella alla ragazza al centro, è un amore di buzzati ad esempio, è un riutilizzare informazioni che hai già, è un volersi forzatamente collegare nella mente delle persone a un prodotto che non, oggettivamente non ha quasi nessuna correlazione, però sta di fatto che tipo, addio alle armi, che è stata una delle prime edizioni di questa idea, ha venduto come lo sproposito, cioè veramente, aveva tutti quei lettori occasionali, che vedendo questo attore, falso attore, che ricordava un attore che magari piaceva, un'attrice che magari piaceva, li attirava, e a quel punto per curiosità, come ogni lettore che a quel punto era uno a caso, pubblico di lettori occasionali, ora lo chiameremo lettore debole, chiappa quello che, boh, quello che viene dato, non c'è la vera e propria selezione con il lettore debole, chiappa quello che va di moda, quello che gli viene consigliato, cioè insomma, perché il valore dei soldi cambia inevitabilmente nel tempo, ma vedere che un libro costava 350 lire, manco 20 centesimi, è sempre shock, il confronto con le lire è sempre una roba che ti uccide dentro, vi odio, comunque questo qua diventa successo editoriale, vende milioni di copie, lo copiano tutti, era, si espande la cultura ai più, perché comunque il prezzo è fattibile, la gente lo compra pensando che sia questo incredibile divertimento, poi si trova Hemingway, che è tutto meno che gioioso, soprattutto nella di allearmi, la cultura viene proprio spalmata sulle persone, che secondo me gli si può dire tutto a Mondadori e cosa, ma in questo periodo ha fatto un enorme lavoro su questo punto, aspettato che ve lo ingrandisco, romanzo di Hermes Hemingway, bravo, mi hai fatto ricordare una cosa, perché anche questo, tra le altre cose è, ciao Luca Goffi, grazie mille del Zab, anche tu se sei il benvenuto del gruppo Telegram, stasera non c'è Giulia, ma puoi anche tu scrivermi su Instagram in privato, insomma ti manderò il link del gruppo Telegram, se vuoi unirti a noi, i miei social, un comando che funziona, commovente, Lanzo D ha una, vabbè a parte che è un altro mondo, cioè fu Stefano, stiamo parlando di cent'anni fa praticamente, quasi letteralmente tra un po', perché la struttura, ricordare quella dei poster, dei film del tempo, è tutto collegato al cinema, cioè vuole veramente dire, questo è figo come un film, leggile, bellissimo come un film, vai, e questa è un po' la mentalità, infatti il è il titolo, e poi la casa editrice come regista, e romanzo di Hermann Ennis, quasi come se fosse l'attore, non è tutto impostato in questo modo particolare, abbiamo questa incredibile figata che vende, vende, stravende, e poi non vende più, arriviamo negli anni settanta, c'è un altro stallo, perché tenete conto che c'è, Mondadori è come Luisa di Encanto, che c'è se tiene sulle spalle, tutti i traumi di tutti gli altri, se non fa niente lui, rivaghi, gli altri vaghi, 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 devo dire che gli altri sono rimasti tutti uguali, l'editoria è, quando dico che l'editoria è sempre la stessa, dagli anni in 40, è questo che intendo, anche perché adesso, vabbè, carosello, tv, gli italiani non leggono, iniziano già queste frasi che si pensano nuove, invece sono sempre le stesse, anche perché le case editrici che cosa fanno? Quello che fanno adesso, mind blowing, sorpresometro, non c'è sorpresa, perché le case editrici fanno quello che fanno adesso, gli incontri con gli autori, marketing spicciolo a martellate, come poi fatto a caso di base, compagni pubblicitari, premi letterali, premi letterari, che vi ricordo che i premi letterari, per quanto siano ormai amati, seguiti, vogliamo bene tutti, i premi letterari, nascono solo per fare pubblicità ai libri, cioè per vendervi libri, non c'è una vera questione qualitativa, cioè quello è il Nobel, però tutti questi 700 premi, sono fatti per vendervi libri, perché? Perché in questo periodo, nascono le fascette, quando nascono i premi, nascono anche le fascette, perché sappiamo che se un libro vince qualcosa, deve andare con una fascetta, fino ad arrivare agli anni 90, 2000, dove arriva il peggio del peggio, ovvero i libri, che quando diventano film, gli diamo la copertina del film, che è tipo lo brobrio, c'è roba che il taglio di Mondadori, sembra una sciccheria, che è una delle cose di marketing, famose al mondo, tra l'altro c'era anche una pagina internet, che non vi ritroverò mai, fascette brutte, vabbè, c'era questo blog incredibile, che recuperava tutte le foto, delle fascette brutte, oddio, ma si chiama veramente così? oddio, è vero, si chiama veramente così! ok, che ha delle cose, ora, ma non pubblicherà dall'82, anche sto qua, perché giustamente, cioè mi dice, ma che cacchio, cioè non esistono più i blog, però io mi scompisciavo, cioè, ma io mi scompisciavo su questa roba, questo è uno degli esempi, teniamoci conto, tra l'altro, un'altra cosa interessante della copertina di Hemingway, è che è romanzo di, perché adesso Hemingway, l'editoria è diventata così pubblica, così generica, che sappiamo chi è Hemingway, sappiamo più Hemingway che effettivamente i suoi romanzi, e succede anche nei film, se notate, quando l'attore è famoso, il nome dell'attore è il triplo più grande del titolo del film, nei poster, o quando un autore è molto famoso, il nome dell'autore in copertina è molto più grande del titolo del libro, perché soprattutto se è un autore di punta, il titolo, il nome dell'autore è molto più grande del titolo, perché non frega niente che libro sia, di base, vogliamo quell'autore lì, tipo quel fantastico libro di Francesco Sole nuovo, che leggeremo qui in live mercoledì prossimo, ormai ho deciso anche perché è di un brutto, cioè voi non avete capito, abbiamo materiale per piangere dalle risate mercoledì prossimo, è a Francesco Sole scritto così, e poi il resto tipo, in un minuscolo spazio vitale, c'è il titolo, è una immagine di una pianta, un peore, una roba così, comunque tutto in grafica parla, di base tutto è un messaggio, se è fatta bene, vabbè, insomma, le case editrici fanno presentazioni, premi, bello sto libro, compra le solite robe, ma a proposito di grafica, il libro rimane sempre la stessa ciofecata, cioè il libro come se, come funzione, non viene migliorato, soprattutto a livello grafico, l'esperienza del libro è un'esperienza, ok? C'è una bella, c'è brutta, c'è interlinea, c'è bordo, è un vibe un libro, non è che sia solo copertina, anche l'interno, ci vuole una cura, ok? In un libro, soprattutto quando devi combattere con altre cose di informazioni, ecco loro non l'hanno fatto, il libro era la stessa cosa, qua ho scritto un appunto incredibile, con i best seller erano in mani ai poteri forti, alle case editrici forti, per le solite tre, e quindi non c'era neanche spazio per le piccole case editrici, quelle chiudevano direttamente, non pubblicavano una cipa, e le grandi case editrici, esattamente come adesso, vendevano i quattro titoli che funzionavano, le cose di scuola, e ancora oggi è così, tra l'altro, quindi anche qui sorpresometro, stabile, comunque aumenta la tiratura dei libri, volano i prezzi, si impenna al prezzo del libro, e sappiamo benissimo, in economia, che quando un prezzo sale, è difficile farlo scendere, anche se la situazione sociale, economica, che ha portato a quel aumento di prezzo, ritorna al livello di prima, il prezzo rimarrà più alto, e questo spiega, perché a passo passetto, passetto passetto, e il libro è arrivato a costare 17 euro, comunque, tra l'altro, in questo periodo, muore Mondadori, Arnoldo Mondadori muore nel 71, tutti molto sad, musichetta sad, violino, muore un bravo uomo, un santuomo, e passa tutto ai figli, e qui iniziamo già a perdere un po' di qualità, vi devo dire la verità, poi quando arriva Berlusca, proprio, tra l'altro, adesso Mondadori, c'è un sacco di casini, esatto, grazie Stefano, che ritroviamo sulle copertine tagliate, con il font Arnoldo, che ora, per cui ora proverò un sentimento di affetto, oggettivamente, anni 80, pubblicazione di qualità bassa, proprio siamo sulle pagine sottili, schifo, marketing è sempre martellante, senza successo, perché vi dirò una cosa, il marketing funziona a ripetizione, ma se non è fatto bene, funziona fino a una certa, comunque, si cerca sempre il caso editoriale, tra la telenovela e i libri, a volte è un po' tipo film e libro, quando facciamo le copertine, con la grafica dei libri, le copertine con la grafica dei film, dei poster, questo abominio, che abbiamo deciso di fare, facevano la stessa cosa, con la telenovela, ma cosa succede? Sapete quando vi avevo fatto foreshadowing, e vi avevo detto che un altro colore, l'aveva deciso Mondadori, qua in Italia, almeno, e soprattutto, qual è un altro stereotipo incredibile, della letteratura italiana? aspetto, che tanto lo sappiamo tutti, diciamolo in coro, esatto, Simona, non è capito il gioco, bello che vengo bullizzata dalla mia stessa chat, cioè, verculata dalla mia stessa chat, io che mi immagino una bella scolaresca di persone che rispondono, Rosa, e invece mi trovo quello che mi tirano i pallini di carta, prezzo, devo dire, Rosa, i romanzi Rosa, entriamo in questa fantastica tematica, che sono i romanzi Rosa, come nascono i romanzi Rosa? Qua sicuramente mi gioco qualunque cosa conoscete, avete visto, avete palpato, avete addirittura letto, quello che sto per citare, perché Mondadori, morto padre, passato figlio, fa un paio di collaborazioni con una casa editrice canadese, che si chiama Harley Quinn, come Harley Quinn, come Arlecchino, che sembra proprio, come ho detto, sembra Harley Quinn di Batman, viene fatta un'unione con un mix molto vago tra le due case, crea la parola, la parola Harmony, un'incredibile parola meravigliosa, che ci porta a questo, queste sono già le copertine nuove in realtà, però porta a una produzione spaventosa, spaventosa, di romanzi, questi sono i romanzi pruriginosi delle nostre genitori, perché se voi avete mai letto un Harmony, se vi è mai capitato tra le mani, 50 sfumature e acqua fresca, è inutile che ci fanno la paternale con 50 sfumature, perché io ho letto entrambi, e gli Harmony sono molto più spinti, anche perché 50 sfumature di spinto, c'aveva solo la voglia di spingerti, fuori dalla finestra una volta iniziato, comunque, c'è una delle cose più vendute nella storia dell'editoria, perché il target femminile pruriginoso, vende da sempre, e ora facciamo tutta la paternale, le ragazzine che vendono, che comprano young adult fantasy, un po' ottini, spicy, e invece è una vita, è una vita che di complace, è una vita che esistono, e non è ancora letto Francesco Soli, ragazzi, io ve lo dico, mercoledì prossimo leggiamo il libro di Francesco Soli, lo leggo a voce alta, io leggo di merda, ma tanto ho visto che cosa c'è scritto, e possiamo farcela, possiamo farcela, non avete capito, non avete capito, cioè non avete capito, ora fine live, vi leggo l'incipit per fare l'intro alla cosa, tanto abbiamo quasi finito, comunque Mondadori, ora questi sono quelli nuovi, quanto mi stai sulle valle, la roba qui, è tipo la cosa che ha venduto di più, ora non esistono praticamente più, però pensate quanti libri sono stati venduti, quanto di nuovo si sia creato tutto un cazzo di genere, solo perché Mondadori ha deciso che, gli Harmony sarebbero stati rosa, e gli Harmony avevano tutte le categorie, se notate c'hanno tanti dei tic, della copertina di Hemingway, la copertina che sembra quella delle telenovela, dove due limona, allora c'è lui sempre bono, sono tutte così ste copertine, sono immagini fotografiche, quasi film, messe in copertina, che tra l'altro sono tutte uguali, quindi vai a capire, io vorrei andare a leggere un po' di titoli, ma non ci vedo, aspettate, ne prendo uno a caso, guarda, scarpette rosse, dall'odio all'amore, un angelo dal cielo, no, tanto voi non riuscite a leggere, perché sgranata sto schiacciando gli occhi, io ve li leggo io, questi sono i titoli, e poi ovviamente, cioè gli Harmony sono stati così venduti, che negli Harmony sono iniziate le categorie, ma come vedete, sempre colori pastellini, un po' femminili, oppure me, addirittura oro, Harmony oro, dammi il tuo corpo, suppongo, Harmony bianco, un viaggio pericoloso, Harmony jolly, per gioco, per sempre, interno triangolo, vabbè, ok raga, andiamo avanti, comunque, questo che cosa succede, cioè, Mondadori è un altro maledetto genio, perché, di nuovo, dà categoria di romanzi, un colore, ora, non si sa più che Mondadori, che ha dato, che gli Harmony, tra l'altro, io malapena sapevo che Mondadori, che gli Harmony fossero di Mondadori, sinceramente, perché proprio sono diventate una roba assì, cioè, sì, no, ma esistono, esistono, li si possono tranquillamente comprare, fidatevi, sono molto più spinti di qualunque cosa, vendono adesso, non c'era nessun controllo, proprio, e comunque, è uno del, il fenomeno editoriale più famoso di sempre, è arrivato anche all'estero, strautilizzato, e infatti, i romanzi rosa, un po' perché rosa, viaggia anche da solo, cioè, rosa come colore femminile, soprattutto negli anni 80, ormai era, fissato con la freccetta, anche lì, romanzo rosa, è romanzo rosa, adesso è tutta la letteratura femminile, che per il giallo, se il giallo, non ha nessuna accezione particolare, il rosa è già, sminuente, però, comunque, un uomo non potrebbe mai comprare un romanzo rosa, problematica sociale, in cui non entrerò, perché, sennò finiamo dopo domani, ma ne possiamo parlare un'altra volta, perché questa roba è importante, perché Mondadori, come ho detto prima, non aveva paura, non è elitario, Mondadori, non gliene frega un cazzo, cioè, il libro è un medium come un altro, che poi non lo sia, che poi non lo pensiamo tale, che poi innalza l'anima, e tutto quello che vogliamo, va bene, è vero, però, quello che succede, è che, Mondadori non ha paura di vendere alle casalinghe disperate, cioè, non gliene frega una cippa, non ci trova niente di denigratorio, di minato, anzi, è andata da Dio, perché, cioè, forse, Mondadori ancora vive, del successo degli Harmony, probabilmente, e, è uno dei pochi a vendere, in quel periodo, perché i best seller, avevano finito, tutti li hanno comprati, fine della giostra, Ed è un tema che fa ridere, perché adesso, invece, si è ritornato all'elitarismo più totale, quando l'elitarismo non ti fa vendere, quindi, o facciamo gli elitari, e non ci lamentiamo che falliamo, oppure, smettiamo di scartavetrarla, col lettore più bravo, più bello, che legge Manzoni, e quello sfigato, che legge il romanzo Fantasy 8, Spicy, oppure, negli anni 80, 90, il mercato si atrofizza, praticamente, stiamo arrivando al giorno d'oggi, che è sempre lo stesso atrofizzato, lo stesso modo, più che atrofizzato, ormai, è morto, cioè, è un cadavere, che cammina, comunque, perché in questo periodo, sembra che ci sia un guizzo, di consapevolezza, dove l'editore protagonista, opera magnum, un po' svanisce, e va a crearsi una brand identity, che sono un po' le brand identity, che vedremo adesso, no? Perché se ci pensate, tra l'altro, Mondadori, non ha un vero e proprio colore, cioè, Mondadori è rosso, ma non è neanche rossa, tra l'altro, Mondadori e Feltrinelli, pur essendo i due grandi avversari, come nei Pokémon, hanno gli stessi colori, e tra l'altro, se non mi ricordo quasi male, o forse mi ricordo male, però uno è sicuramente di Norda, e se non mi ricordo male, è il logo di Feltrinelli, Norda è uno dei più grandi brand designer, di quei periodi, o forse era quello di Mondadori, Mondadori, bisognerebbe andare a fare un check veloce, allora, vedi? Non lo so, da Mondadori a Feltrinelli, l'ha fatti entrambi lui, cioè, se pensiamo, sono molto simili, come identità, poi in realtà, Mondadori non ha identità, infatti, questo continuo trasformismo, fa sì che la casa editrice Mondadori, abbia 700, delle collane famosissime, tipo i classici neri, che tutti amiamo, adoriamo, delle collane, ora adesso si è un po' più fermata, sugli Oscar classici, di base, ora appunto fanno il Volt, però Mondadori, non ha una vera estetica, non ha una vera cosa riconoscibile, di sé, ora, quello è col taglio in copertina, gli Oscar Mondadori, sono quelli che riconosci subito, perché vengono ribrandizzati in branco, e sono anche quelli più comprati, quindi una volta che vengono ribrandizzati tutti, li vedi in giro, insomma, li colleghi, però Mondadori non ha un'estetica pratica, come può essere Naudi, come può essere Adelphi, erano sinceramente spaventati che potesse finire il mondo, un po' come quello che è stato il 2012, era il 2012, sì, e poi invece era il 2020, comunque, aveva paura degli anni 2000, e quindi c'è di nuovo la stasi di mercato, anzi, gli anni 90 sono il peggio del peggio, perché addirittura si arriva al macero, dalla quantità di libri che vengono prodotti, e di libri che non vengono comprati, l'unica cosa che viene venduta in questo periodo, sono i mille lire della Newton, palese copia della Penguin, che sono quelli che ci portiamo ancora adesso, cioè i libri della Newton, che costano adesso 4 euro, un tempo, li vediamo ancora adesso in giro, aveva fatto questa collana improponibile, ve lo giuro se ne sfogliate uno, e vi vengono i brividi, che sembrano veramente una copia della Penguin, ma peggio, e la Mondadori, da questo punto in poi, vuoi che è stata presa dal Cavaliere, vuoi che non ci sono stati più uomini, come Arnoldo, e così, va in stasi esattamente come tutte le altre case editrici, non ci sono stati mai più casi particolari, in realtà nell'ultimo periodo, ci sono stati dei casi editoriali interessanti, ma non sono Mondadori, quindi la nostra storia finisce qui. Quello che vi posso dire delle copertine a taglio, è che sono state fatte nel 2016, anche se sembra una triste eternità, quindi forse a breve potrebbero essere tolte, ma in realtà no, perché la casa editrice, se tra l'altro ricordiamoci, che Mondadori è anche la proprietaria del Kobo, in realtà è un'altra gran mosso, cioè è stata una delle poche case editrici a investire sulla lettura digitale, quando in realtà il monopolio è un po' di Amazon, ma anche Kobo la fa da padrone, cioè, se ci pensiamo io, tra un po' non sapevo neanche che la Kobo fosse di Mondadori, sinceramente, ma mentre tutti negli anni 2000 si lamentavano e gli audiolibri, e il libro digitale fa schifo, ma chi vuoi che lo prenda, ma la carta, e invece sti cazzi, Mondadori ha detto, sì sì sì, va bene, datemi un Kobo, facciamoli, e comunque ha intuito anche lì una serie di verità, cioè che si vende. Le copertine col taglio, invece, perché io ero dubbiosa su questa scelta, è stata fatta in un abbastanza grosso gruppo grafico, e il taglio era un modo per, visto che le copertine tascabili sono comunque economiche, quindi devono tenere un certo budget, il taglio era un modo per stampare un livello di lettura di copertina in più, senza dover aggiungere elementi, e quindi mantenerla effettivamente economica. Quello che è successo di, che secondo me ha mandato un po' tutto il progetto in bratta, è che lo stanno facendo, perché secondo me lo stanno ancora finendo, cioè ok che non puoi rifare tutti io, Scaramondadori a una persona sola, però non c'è, sembra quasi che si siano persi di fare un check finale, ci sono delle collane nelle collane, però raga, cioè ora, quelle di Pirandello, quelle di Calvino, cioè ma scusami, sono orre, cioè sono proprio esteticamente brutte, quelle che funzionano meglio, sono quelle con colore pieno in copertina, e qualche cosa sullo sfondo, a volte ci sono dei concept, come in Dracula, però a volte sono state buttate lì, però aveva bisogno di molta attenzione, perché a livello di budget, ok, ma poi a livello di concept, dovevi pensare a qualcosa che funzionasse su due livelli, hanno sbatti assurdo, e infatti non l'hanno fatto sullo sbatti, hanno messo delle robe a caso, buona delle volte, e via, cioè qual'era, chi è il, chi è su su, tra l'altro il giallo che hanno scelto è molto bello, questa tiratura di giallo, che è tipo stata fatta anche per il nuovo stoner, è veramente bella, ma che cazzo di senso, a parte che sembra una cosa toracica, ma ti pare che possa essere, proprio per connessioni automatiche, di persone a cose, di cui abbiamo parlato tutta la sera, questa, come si connette a Goldoni, cioè va bene che c'è villeggiatura, e va bene che vanno in vacanza, ma, tra l'altro la valigia è Louis Vuitton, Gucci, Prada, Milano, Sui Vi e Coca, il concept è, se io voglio creare una cosa economica, ma voglio dargli un'alta lettura, questo gioco qui è una figata, perché vuol dire che puoi dare una lettura nascosta, alla stessa copertina, cioè credi nella narrazione della copertina, è un progetto fichissimo, è un'idea della madonna, il problema è che per fare sta roba qua, ci vuole un'attenzione spaventosa, vuol dire che tu devi creare una narrazione, per tutte le copertine, tu lo crei sempre, fai una copertina, però non puoi battere delle robe a caso così, perché è talmente palese, che deve essere una narrazione, che se non lo diventa, fa cagare, cioè non fa bene, cioè allora, eronicamente appunto, quelle non mi ricordo di, una delle donne, scrittrici donne dell'ottocento, c'ha non so, i fiorellini, e la carta da parati, e il colore tinta unita, che è anche lì un po' banalità, però almeno funziona, cioè, sa come dire, va bene, rappresenta il tempo, rappresenta lo stile, va bene, è tutto, Dracula, che qua non si vede, ha il taglio, sempre qui, però sotto è rosso, come il sangue, quindi sembra che il sangue coli da dietro la copertina, questa è una ficata, questa è una ficata, questa è una narrazione, alcuni funzionano, alcuni no, perché ci vuole un sacco di pensiero, per far funzionare una roba così, e chiaramente, porre e stelle, questo pensiero, non ci avevano il tempo di farlo, per tutte, Dottor Jackie, le Mr. Hyde in comprensione, aspetta, può funzionare, è tutta nera, questa roba che sembra quasi pelle, probabilmente sotto un'illustrazione di qualche tipo, sono curiosa, però poi la cerco in libreria, però sotto un'illustrazione di qualche tipo, si vede, c'è questo rosa fucsia, che ti tira dentro, e ti fa vedere subito la differenza tra davanti e dietro, tra l'altro, con la narrazione di Dottor Jackie, e di Mr. Hyde, ha senso che il davanti sia tutto nero, tranquillo, pulito, e il dietro chiaramente stia nascondendo del caos, è proprio la trama di Dottor Jackie, le Mr. Hyde, tra l'altro con questo concept, poi ho trovato l'intervista al direttore creativo, grazie per essere stati con noi, spero che vi abbia interessato, che vi sia piaciuta, vi sia esperata, e come promesso, prima di andare, intanto se volete dire qualcuno da raidare, ditemelo, se no ce ne andiamo tutti a nanna, io vi ringrazio di essere stati con me, a sentirmi blatterare di Mondadori, per un'ora e mezza, praticamente, vi amo tanto, come promesso, vi lascio, possiamo poi faremo dei pull, se vi interessano queste tematiche editoriali, sul prossimo argomento, che arriverà in un tempo lavorativo di 5-6 mesi, perché questo è il tempo che ci metto, e come promesso, andiamo a leggere la trama del libro, che leggeremo ad alta voce settimana prossima, e quindi qua c'è il link per l'avev, in audio ad elfi, è fighissima, perché c'è un sacco di dissing storici, però detto ciò, grazie mille per essere stati con voi, ovviamente questa live, la ritrovate qua su Twitch, per 14 giorni, e in qualche altro canale, poi vi dico quale, domani, se sopravvivo, sono con Ilenia, sul canale di Ilenia Parla di Euphoria, e mercoledì, leggiamo questa ficcata incredibile di romanzo, io vi mando un gran bacione, e vi auguro buona serata, grazie per essere stati con noi, è stato bellissimo, buona serata, buona lettura, e buone cose, ciao cari!